Gli spazi pubblici di questo comune vengono assegnati tramite un bando. Potrà sembrare normale, ma fino a ieri non era così. Questo risponde ad un'esigenza evidentemente di imparzialità, buon andamento, trasparenza. Io credo che in un'era in cui i bisogni crescano, la risposta unica e possibile sia quella di garantire i diritti. E noi in questo modo garantiamo parità delle armi a tutti, cioè tutti potranno partecipare ad un bando e alcuni, secondo i criteri che prevede appunto il bando stesso, risulteranno a giudicatare gli spazi pubblici. Per fare questo noi rifavoriamo percorsi di aggregazione fra le associazioni, affinché ci si mette insieme per condividere degli spazi, usufruendo delle previsioni del regolamento comunale che determinano degli abbattimenti sui canoni. 65% la misura della riduzione massima consentita. Ma comunque impongono all'amministrazione di garantire almeno la copertura del costo. Nel senso che io non penso che la pubblica amministrazione debba lucrare sugli affitti, ma neanche ci debba perdere, perché poi, se no, è sempre la comunità che deve in qualche modo ripagare questo buco. Siamo contenti, lo pubblicizziamo. Era un'attività in qualche modo illustrata anche nelle linee di mandato del sottoscritto e questo diviene un fatto e di questo siamo contenti. Stiamo parlando di 54 immobili suddivisi per diverse tipologie ed è un lavoro importante che arriva in porto dopo il necessario battagliamento con le norme, con la burocrazia, con tutto quello che era necessario svolgere prima di arrivare a questo grande risultato.